Musica Lunedì 8 agosto, buongiorno e buona settimana da chi vi parla e da Donato Mignogna in regia. Prima edizione del telegiornale che apriamo con l'evoluzione del quadro politico in casa PD. Dalla segreteria nazionale arriva la richiesta per la candidatura di una donna in Molise. E crescono le quotazioni di Caterina Cerroni, l'agnonese e segretaria nazionale dei giovani democratici. Facciolla probabilmente non sarà della partita e punterà alle regionali per la carica di presidente. Ci dice di più in questo servizio Pasquale Di Bello. Volti nuovi al femminile in casa PD in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. A fornire l'indicazione con una specifica richiesta di candidatura in rosa è stata la stessa segreteria nazionale del partito di Enrico Letta. Ad incontrare i favori delle alte sfere che si muovono all'ombra del cupolone è la molisana Caterina Cerroni, proveniente da Agnone, reduce da una brillante partecipazione alle ultime elezioni europee e attualmente segretaria nazionale dei giovani democratici. Sarà molto probabilmente lei la carta più pesante che il PD spenderà in questa campagna elettorale. Per lei si parla di una candidatura alla Camera dei Deputati e da definire resta soltanto in quale ambito, poiché viene accreditata in entrambi i ruoli sia al maggioritario che al proporzionale in Molise. Ma non è questa l'unica novità tra i democratici. Probabilmente oltre alla capogruppo del PD in Regione, Michela Fanelli, che non ha dato disponibilità a candidarsi alle politiche, che salterebbe anche il nome del segretario regionale del partito, Vittorino Facciolla, intenzionato anche lui, come la ex sindaca di Riccia, a correre per la presidenza della Regione. In vista dell'appuntamento della prossima primavera, i due Facciolla e Fanelli stanno conducendo da tempo una complicatissima partita a scacchi, ricca di colpi di scena. La battaglia per Via Genova si farà aspra dopo il voto politico di settembre, allorquando tra i due pretendenti ne dovrà restare uno solo. Solo allora vedremo se la candidatura a governatore prenderà la strada di Riccia o quella di San Martino in Pensilis. Giorno di festa a Colletorto. Aperta dopo vent'anni, la scuola danneggiata dal terremoto del 2002, abbattuta e ricostruita. Un momento storico per la comunità. I studenti finalmente abbandoneranno il prefabbricato. Ce ne parla Andrea Nasillo. Giornata storica a Colletorto. Dopo vent'anni dal terremoto che ha danneggiato la scuola del paese, inaugurato il nuovo edificio, dopo mille vicissitudini ricostruito lì dove è stato abbattuto. Taglio del nastro alla presenza di numerose autorità politiche, regionali e locali e di tanta gente del luogo. Per l'occasione, a conferma di un duraturo gemellaggio, nato dopo il terremoto, è giunta dal quarto municipio di Bari una delegazione tra amministratori e rappresentanti scolastici. La scuola primaria di Loseto è appunto intitolata a Carmela Ciniglio. Davanti al nuovo edificio di Colletorto, un monumento che ricorda la maestra e gli angeli morti sotto le macerie della scuola di San Giuliano nel 2002. Non nascondo una forte commozione per il risultato raggiunto, perché veramente ci è voluto molto lavoro. Questa scuola è costata 2 milioni e 400 mila euro di lavori, escluso le spese tecniche, che sono altre 700-800 mila euro. Qui faranno scuole elementari e medie, mentre la scuola per l'infanzia abbiamo un'altra struttura. Loro, diciamo, sono stati più fortunati perché comunque sono sempre rimasti in una scuola in muratura, se possiamo dire. La nuova scuola sarà presto intitolata proprio alla maestra Carmela. Oggi, ha detto il presidente della provincia Francesco Roberti, c'è quell'emozione che 20 anni fa ha segnato tutti. È dalla scuola che parte il futuro. Un proverbio dice che c'è chi pianta un albero e chi godrà dell'ombra. L'importante è piantare. Il sindaco Mele, commosso nel suo lungo intervento, ha chiesto al governatore Toma impegno anche per i nuovi arredamenti della scuola. Per il momento saranno utilizzati quelli del prefabbricato. Questa è un'area, ha detto il presidente della regione Toma, che più ha bisogno di attenzione. Non vedo l'ora di tagliare questo nastro. Ci siamo riusciti, siamo arrivati a quest'opera che è importante per il comune di Colletorto. Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo altre opere da attivare più che realizzare nel comune di Colletorto. I bambini del comune di Colletorto hanno una scuola nuova e le maestre, i genitori possono stare tranquilli. I bimbi di Colletorto per quasi 20 anni hanno fatto scuola in una struttura temporanea, ma il tempo passato è stato lungo, lunghissimo. Oggi si respira aria nuova. Dopo 20 anni in un prefabbricato che doveva essere una struttura temporanea, è diventata una struttura temporanea permanente, perché 20 anni sono 20 anni. Però, io devo dire la verità, sarà perché qui non ci verrò a settembre, eccetera. Quella scatoletta quasi quasi mi manca, perché mi dava sicurezza, dava tranquillità ai ragazzi, perché potevano uscire immediatamente fuori per qualunque motivo, questo lo devo dire. Anche se la struttura era carente, era molto carente in tante cose. E adesso a Capracotta dove c'è stato un record di presenze a Prato Gentile, dove è tornata la pezzata dopo due anni di stop a causa del Covid. Per noi c'era Enrico De Simone. Sentiamo. Il sole comincia a fare capolino tra le montagne e Capracotta è già sveglia. Un'intera comunità sull'attenti per una di quelle occasioni importanti, sentite. È la pezzata che torna sul pianoro di Prato Gentile dopo due anni di assenza a causa Covid. Sul pianoro sono stati disposti sei calderoni, di cui uno con la cottura di carne di pecora per celiaci. La cottura prosegue ormai da cinque ore. Come sta andando? Andiamo molto bene. Stiamo per tirarla fuori dalla prima caldaia. Penso per mezzo giorno, mezzo giorno e cinque la tireranno fuori. Da quanto tempo siete qui al lavoro? Dalle cinque questa mattina. Questa l'abbiamo messa più o meno verso le sette, sette e mezza. Oltre la carne di pecora ha anche carne di agnello e fegatelli. L'evento capracottese per eccellenza ha permesso nuovamente ai curiosi di degustare tipicità locali e di scoprire le bellezze di territori incastonati tra le montagne. Dai dati che ci giungono fino a questo momento c'è tutto esaurito e le cose stanno funzionando molto bene, devo dire. Capracotta, Prato Gentile che è in qualche modo il luogo simbolo della montagna del Molise può rappresentare davvero il punto della ripartenza. Cosa le piace di più di questa carne? Ma diciamo la freschezza. È fresca? È fresca. Tutta la famiglia insieme? Sì, tutti quanti insieme. Tutti insieme appassionatamente. Sono anche qui. E avete scelto capracotta per quale motivo? Perché è una tradizione di famiglia, ogni anno ci si viene. Un successo confermato per la pezzata ma tra le fila del direttivo della Proloco si ragiona già sull'organizzazione del prossimo anno. Il presidente Tiziano Rosignoli ha promesso tante novità. Occhi puntati sulla possibile apertura di un percorso di degustazione adatto anche a vegetariani e vegani. Per l'anno prossimo vorremmo fare un percorso del gusto invitare i pari produttori di tutti i prodotti enocastronomici. Ecco, c'è stata un po' qualche polemica nel corso degli anni relativa appunto alle persone che mangiano solo vegetariano o solo vegano. Questo percorso del gusto potrebbe aprire poi pure a loro? Certo, certo. Bisogna essere aperti alle varie esigenze. Dobbiamo accettare e accontentare i palati anche di chi non ama la carne. L'importante è che frequentino i nostri territori. Viva la pezzata! Viva la pezzata! Viva Capracotta! Ed è tutto per la prima edizione del Tg adesso uno sguardo ai quotidiani locali e ai nazionali. Iniziamo dal web e dal giornale del Molise in evidenza la politica anche facciolla verso il forfè alle politiche per le regionali sarà sfida con Fanelli in ascesa in nome di Caterina Cerroni. Vediamo le altre notizie quelle correlate proprio alla politica in Molise possibile risultato pieno del centrodestra. Sanità è andato deserto l'avviso per l'assunzione di otto ginecologi negli ospedali poi a Colletorto vent'anni dopo il terremoto ecco la nuova scuola. Per quanto riguarda le notizie in evidenza si parla della pezzata di Capracotta il sindaco Candido Paione dice ripartenza vera c'è questa foto che testimonia la presenza dei molti turisti sulla montagna di Capracotta. Apertura politica anche per primo piano Calenda rompe il patto col PD i 5 stelle sarebbero durati un mese. Federico commenta con sarcasmo lo strappo del leader di azione pensate cosa sarebbe accaduto se per caso avessero vinto intanto il segretario del PD Facciolla ci faremo carico da soli di fronteggiare una destra pericolosa di spalla Marone pronto la corsa sanità fra le priorità sarà di sicuro in campo le politiche del 25 settembre il coordinatore della Lega Michele Marone dunque anticipa che Salvini farà tappa in Molise passiamo alle altre notizie ma restiamo a parlare di politica Conte risolleva il morale agenda Draghi in campo con la nostra a centro pagina questa foto grande foto successo per la pezzata capra cotta simbolo di rinascita in migliaia per la sagra il sindaco Paglione dice su queste montagne si può vivere alcuni richiami appuntamenti concerti sfilate e rievocazioni storiche ecco l'agosto boianese la cronaca da guionesi investito in centro storico 85 anni muore dopo 75 giorni di sofferenza mentre a Colletorto avete sentito anche nel nostro Tg inaugurata la scuola intitolata la maestra Carmela Ciniglio grande emozione è stato detto Rita Iacobucci firma oggi la rubrica il punto i progressisti Tafazzi Forever questo il titolo andiamo a vedere le notizie sportive sotto la testata Termoli tra i pali arriva il prospetto piemontese Valerio Bigotti Casa Vasto Girardi altri tre colpi per completare la rosa del club Alto Molisano per la pallavolo resi noti i calendari per Spike Devils ed Europea 92 l'informazione nazionale i quotidiani nazionali adesso puntano tutto sullo strappo di Calenda il Corriere titola così in apertura ciclone Calenda sul centro sinistra rotto il patto con il PD Letta dice può allearsi solo con se stesso Renzi opportunità per il terzo polo la reazione dice è stata una scelta sofferta ma è una coalizione fatta per perdere della vedova di più Europa noi rispettiamo l'intesa andiamo a centropagina foto dell'Ucraina la battaglia intorno alla centrale nucleare fermo un reattore poi si parla anche del maltempo alluvioni lampo e frane in montagna l'allarme resta alto Courmayer senza acqua ma oggi dovrebbe essere riattivata l'erogazione dal Corriere a Repubblica con questa grande foto di Calenda e lo strappo il titolo di apertura la scelta sofferta di Calenda rompo con il PD non mi sento a mio agio il segretario Dem dice è alleato di se stesso intanto Bonino lascia azione e resta nell'alleanza io mantengo la parola data è stato detto cresce l'ipotesi di un terzo polo con Renzi tanto Letta Carlo non mi ha detto nulla ogni voto a lui aiuta Meloni Calenda l'ho annunciato ieri in una trasmissione della RAI ci spostiamo sulla stampa da Calenda a Renzi regalo alla destra c'è un'intervista del quotidiano torinese a Letta nella quale dice tra l'altro se vincono Meloni e Salvini cambi devastanti alla Costituzione poi sul Movimento 5 Stelle accordi chiusi non cerco alleati andiamo a vedere anche le altre notizie sul quotidiano di Torino c'è uno scenario Iraq la nuova miccia nel mondo in fiamme dunque ancora venti di crisi in alcune zone del mondo chiudiamo la stampa per passare al fatto quotidiano Calenda ricambia idea in tv e lascia Letta in brache di tela e il quotidiano di Travaglio parla di farsa il capo di azione va sul RAI 3 e rompe i patti col PD Bonino lo molla di Sastro Dem scoprono che l'ex alleato è inaffidabile Castellina intanto dice di aprire al Movimento 5 Stelle e poi si parla ancora di suicidio assistito per fare il centro chiaramente in termini politici il suicidio assistito libero comiche a sinistra calenda pagliaccio definito da Sallusti il leader di azione rinnega il patto stretto 6 giorni fa e rompe con Letta che resta solo con Di Maio e Tabacci Renzi vuole un accordo al centro panico tra i compagni Silvio Meloni e Salvini ridono ma il PD con chi vorrebbe governare è questo il punto di domanda chiudiamo libero siamo adesso sul sole 24 ore l'apertura e sul clima siccità la nuova Italia triplicati i giorni di supercaldo al nord ma dire il vero anche al centro sud caro Bollette 5 aiuti per le famiglie il decreto del governo fino al 30 aprile 2023 sospese le modifiche unilaterali dei contratti scrive il quotidiano di Confindustria Letta continua così è l'invito del il tempo di Roma chiaramente ironico il miglior alleato del centro destra manca poco alla presentazione dei simboli e il segretario PD non ha ancora alleati certi Calenda lo ha mollato proverà a pregare Conte gli resta solo Fratoianni Meloni Salvini e Berlusconi si godono il flop dei democratici e pregustano la vittoria uno sguardo adesso al mattino come potete vedere apertura sempre su politica Calenda riparte dal centro il leader di azione rompe con il PD e parla di scelta sofferta e apre a Renzi per il terzo polo a centro pagina tra le interviste del mattino così salviamo i figli di Gomorra portandoli via parla il PM minorile Sorrentino e dice bimbi pusher se necessario vanno sottratti ai genitori la verità continuo a puntare sulla questione covid in particolare sui vaccini l'apertura è proprio su questa vedete che Calenda finisce a centro pagina noi rovinati dai vaccini ora vi chiediamo verità effetti avversi l'appello delle vittime si chiamano Giovanni Francesco Michele Toni e Giuseppe raccontano il loro dolore qualcuno ne risponda parla anche l'immunologo fraiese che dice mi candido per fare luce subito una commissione d'inchiesta il ricercatore rivela l'MRNA i difetti di quel sistema erano noti a tutti e poi a centro pagina oggi le comiche elettorali una telenovela senza pudore Calenda rompe il patto con il partito democratico il secolo d'Italia Calenda divorzia da Letta e gli rifila schiaffoni fondo pagina l'ironia della Meloni Calenda non si sposa più con Letta e c'è anche l'ira funesta del PD insulti a Calenda e paura di perdere intanto Berlusconi lancia la Meloni ha il mio stesso coraggio lo sport adesso andiamo sulla gazzetta Skriniar Inter che fai il Paris Saint Germain di nuovo all'attacco con la difesa già in crisi a pochi giorni dal campionato Inzaghi teme di perdere il suo pilastro e fa muro adesso la palla passa a Zang intanto in alto Milan in pole venite a prendermi Leao e Teo super condizione e gioco al top e problemi di Juve Inter lanciano il diavolo a proposito di Juve Travolta arriva a Kostic Bianconeri sconfitti 4 a 0 Morata tre golla da Allegri ma l'atletico lo blinda e intanto una bella Roma questa Roma è una bellezza Di Bala accende Pellegrini e Zaniolo è festa per 65 mila lo Shakhtar battuto 5 a 0 all'Olimpico bene anche oggi con lo sport terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione informazione che torna alle 14 con la seconda edizione del TG grazie per essere stati con noi buona giornata Grazie a tutti